Lunedì si scioglierà il rebus del ritorno in presenza anche nelle secondarie di secondo grado in un contesto pandemico che non è del tutto rassicurante, anche nel capoluogo. C'è stato nei giorni scorsi un aumento dei casi di contagio rispetto ad una media che nelle ultime settimane si era attestata poco al di sopra dei 20 casi. La speranza è che non ci si trovi di fronte ad una tendenza. Spero di no francamente, spero di no francamente, spero di no. Siamo sempre lì ragazzi, il problema è avere un atteggiamento responsabile ciascuno dal canto suo. Vedremo con le scuole, ci sono le raccomandazioni del presidente De Luca con le quali stiamo lavorando anche da questa mattina. Per il passato avevano lavorato con Eva Vossa, avevano lavorato soprattutto loro Eva Vossa e Mimmo De Maio insieme ai presidi con i quali abbiamo intrattenuto dei webinar. Ora con questa raccomandazione c'è da rivedere un poco gli aspetti organizzativi. Tenete conto che è un momento prudenziale che va rispettato nelle sue linee logiche. C'è bisogno di rispettare con grande attenzione quando ci viene suggerito perché le cose non sono tranquillizzanti. Bisogna che ciascuno di noi si faccia carico di tutto questo e che speriamo finisca questa tragedia che ci ha colpito tutti.